Mi sembra che abbiamo pensato, ragionato, vagliato, discusso e letto abbastanza. Ora dobbiamo passare all'azione. Io sono Silvia Fossati, del patto civico, e domenica 4 dicembre vado a votare consapevolmente sì. Non ho nessuna voglia di rimanere nel passato, voglio cambiare e guardare verso il futuro. Ma non hai proprio voglia di cambiare? Io domenica 4 dicembre vado a mettere una bella croce sul sì, forte e significativa. Grazie.